ciao emma abbiamo messo tutte le decorazioni di natale ok me le puoi spiegare questo ad esempio che cos'è aspetta ma io non ti vedo quando tu parli mettiti qua cos'è quello cosa facciamo al calendario dell'avvento parla più forte va bene fino a 24 l'ho capito che c'è la casella fino al 24 emma guardami l'ho capito sì fino al 24 e tu tutti i giorni prendi una sorpresina guardami fino al 24 prende una sorpresina quella cosa quella la quella su quella quella una stella e quello chi è quello sì ok vieni vieni raccontiamo cosa c'è qui guarda questo chi è come con la sua slitta e questo chi è e quello e ci sono delle casette e in questa casetta chi ci abita io quei due elfini e qua ci sono altre casette e c'è anche un trenino cosa fa questo trenino chi c'è sul treno e lì sotto chi ci abita e vieni vieni qui qui ci abita invece oh gli elfini e quella è la sua porta magica per andare a casa sua e loro cosa fanno questi elfini si e cosa fanno gli elfi vanno da babbo natale cosa fanno mi ha fatto la bravo la monella ok andiamo a vedere l'albero allora ora o no no prima dobbiamo vedere forse le calzette qua qua oh che belle queste calze di chi sono e chi gli mette regalini lì dentro e se fai la monella cosa ti porta e questo albero chi l'ha fatto questo albero è se la mia aiutante ho capito e cosa c'è in questo albero c'è un trenino e di babbo natale ho capito ci sono molti molti addobbi ok e queste scarpe da elfino di chi sono oh quando eri piccola come vediamo come piccola piccolina baby ok e allora vuoi dire forse buon natale a tutti e spiegamelo cos'è quello mi guardi forse vuoi dire buon natale a tutti e dillo dammi un bacio no no a me dai un bacio e forse volevi cantare un poco di jingle bells non ti piaceva cantare jingle bells ok allora saluta dai ciao emma